La felicità Collega, secondo te esiste la felicità? Boh Mamma mia, che allegria Cioè, secondo me la felicità allora non esiste Ecco, se proprio lo vuoi sapere È un concetto inventato dai politici Che intendi dire? Eh, tu la conosci una persona felice Cioè? Cioè, uno che tu lo vedi e dici Ah, questa è una persona felice Pensaci Allora? Che? Come che? Ti avevo chiesto se conoscevi una persona felice Ah, no, scusa Stavo pensando alle cose mie Cioè, una persona felice